Oggi Corletto Monforte festeggia un giorno importante. Nonna Grazia compie 100 anni. Una donna dal sorriso coinvolgente, istancabile lavoratrice e da sempre innamorata di suo marito Armando, sposato quando era giovanissima e venuto a mancare 13 anni fa. Mamma di quattro figli e nonna di dieci nipoti che trascorrono con lei le giornate e mantengono viva la sua allegria. Nonna Grazia chiede spesso ai suoi nipoti di dirle quanti anni ha compiuto e loro quasi più incredoli di lei le rispondono 100 anni nonna hai compiuto 100 anni. Lei sorride, risponde ringraziando Dio e inizia a raccontare del suo lavoro nei campi, ad allevare bovini accanto al marito che ricorda sempre apostrofandolo con quel tesoro mio. Nonna Grazia è una donna saggia e nei suoi racconti mette sempre qualche insegnamento di vita, un prezioso consiglio. Oggi a Corletto Monforte l'amministrazione comunale le consegnerà una targa perché Nonna Grazia ha raggiunto un importante traguardo ed è un privilegio festeggiarlo insieme a lei. Grazie.